Si chiama Adam Shatford, uomo di 54 anni d'età, che per miracolo gli hanno salvato la vita. Una parrucchiera gli ha salvato la vita, gli ha tagliato i capelli e ha individuato un neo che aveva vicino all'orecchio sinistro. Così l'uomo è andato al dottore che ha diagnosticato un melanoma a tenso stadio. I 54 anni quindi è stato operato, gli chirurghi hanno rimosso anche delle piccole masse dalla sua fronte. L'uomo sarebbe andato per il caso con il giorno a parrucchiere e ecco che sarebbe arrivata, sarebbe aggiunta la amata scoperta da parte della parrucchiera che gli ha salvato la vita. Probabilmente se non si fosse ricavata la parrucchiera quel neo sarebbe rimasto occultato per sempre, non lo avrebbe mai individuato né visto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro a voi tutti, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da narratore italiano.